Buonasera e benvenuti a Primo Cittadino per questa seconda puntata della nuova stagione. Oggi per la prima volta è nei nostri studi Diego Sabatucci, sindaco di Pergola. Ben arrivato sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Prima di iniziare ricordo i nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure possono anche inviarci un messaggio su whatsapp al 338 49 68 250. Questi numeri li troverete comunque sempre in basso in grafica. Sindaco, lei è stato eletto nel mese di giugno con il 67% dei voti contro il 33% ottenuti dalla sfidante, l'ex sindaco Simona Guidarelli. Che cosa ha portato a questa vittoria? Che cosa ha influito? Ha influito molto secondo me il concetto di squadra, un concetto su cui abbiamo puntato molto. La nostra lista si chiamava Pergola nel cuore, ripartiamo da noi perché io facevo parte delle giunte Baldelli, sempre di Pergola nel cuore. Dal 2009 al 2019 abbiamo amministrato Pergola. Ero prima consigliere comunale, poi assessore al bilancio di quelle due amministrazioni. Ripartiamo da noi e era proprio riportare a Pergola un modo di amministrare con quelle persone che hanno portato a Pergola molte cose nuove, come grandi eventi, come importanti opere pubbliche. Quindi la campagna elettorale è stata incentrata molto sulla squadra di Pergola nel cuore, una squadra molto preparata, molto competente, dove ognuno aveva un ruolo ben definito. Quindi seguiva un tema specifico legato alle problematiche della nostra città. E credo che questo sia stato il vero fulcro della vittoria. Ecco, quindi lei appunto da amministratore ha vissuto passo passo di questo passaggio, quindi da governare all'opposizione e poi adesso è ritornato di nuovo al governo della città. Come è cambiata in questi ultimi anni Pergola? È cambiata molto, sono successe anche molte cose dal Covid, dall'alluvione, quindi ci sono stati molti avvenimenti importanti. Sicuramente Pergola aveva voglia di tornare a essere al centro del panorama della provincia di Pessoa Rubino e questo il risultato lo ha dimostrato sicuramente. Sono passati ormai più di tre mesi dal suo insediamento, quali sono state le prime azioni da sindaco oltre alla squadra? Faccio sempre una battuta insediato, proclamato, anzi sindaco, il 10 giugno. Una banalità, due giorni dopo ho celebrato un matrimonio civile, quindi subito come primo atto. Adesso al di là delle battute ricordo molto bene uno dei primi atti che abbiamo fatto e che è stato quello di riaprire il sabato mattina l'ufficio Anagaf, l'ufficio Servizi Demografici. Il sabato per Pergola c'è il mercato cittadino, è un momento importante per la nostra comunità dove molte persone vengono al centro, molti cittadini si recano al centro proprio perché c'è il mercato e dalla precedente amministrazione è stata fatta questa scelta di chiudere gli uffici il sabato. Noi invece abbiamo appunto scelto proprio come primi atti di riaprirlo, di dare questo servizio e la cittadinanza è molto molto contenta di questo. Molte altre cose, anche magari dal piccolo al più grande, ridare ordini al centro storico. Abbiamo fatto come primi interventi tramite i vigili urbani, abbiamo ridato un pochino di ordini al centro storico, rifatto la segnaletica stradale che era scomparsa da tempo, per esempio cose piccole ma per dare un senso di ordine alla città. Questo nei primissimi giorni è stato fatto. Nei dettagli, insomma, si fa la differenza. Esatto, partendo proprio da lì per poi iniziare a affrontare sin da subito temi un pochino più importanti, la sicurezza. Abbiamo iniziato un percorso durante l'estate di controllo tra vigili urbani e carabinieri insieme, dopo che c'erano state alcune situazioni un po' particolari, fino ad arrivare a un importante lavoro di progettazione per la città. E da lì in questi mesi è stato fatto un importante lavoro appunto legato proprio alla progettazione, quindi guardare al futuro di Pergola. Insomma, vi siete messi subito al lavoro, come è giusto che sia. Adesso entriamo un po' più nello specifico dei vari argomenti che vorrei trattare con lei. Partiamo dal maltempo, prima ancora dell'alluvione. Nei giorni scorsi, in particolare nella giornata di sabato, le forti pioggia hanno provocato, quantomeno nel nostro territorio, Fano, Pesaro e Introterra, diversi danni e disagi. Da voi sono stati registrati? Diciamo che in questa fase siamo stati un pochino più fortunati rispetto alla costa, le pioggi sono state insistenti, a intermittenza abbiamo avuto delle piccole frane che siamo riusciti a ricomporre subito, a intervenire subito, nella mattinata però diciamo che ha colpito più la parte costiera della nostra provincia, della nostra regione, piuttosto che la parte dell'entroterra, ecco fortunatamente in questo caso per noi. E quelle che vediamo adesso invece sono le immagini relative all'alluvione del settembre 2022, ad oggi qual è la situazione? La situazione è che innanzitutto vorrei ringraziare il governo nazionale e la regione Marche perché sin da subito ha stanziato importanti risorse, ricordo i 400 milioni del governo Meloni, associate alle risorse aggiunte poi dal governo regionale, dal presidente Acquaroli. Di lì in avanti, Pergola oggi ha il primo atto vero ufficiale di partenza, siamo stati indicati come soggetto attuatore per la riapertura del ponte, una riapertura parziale in questo momento per ridare viabilità, quindi un piccolo intervento ma che ridà viabilità a un intero quartiere. Questo è il risultato straordinario su cui credevamo molto, ci siamo messi subito a contatto con la struttura commissariale, con tanti incontri, ci siamo visti tante volte sia Pergola sia in regione, proprio per affrontare questa tematica. E sin da subito abbiamo raggiunto questo risultato veramente importante per la frazione ma per tutta la città. Quindi attualmente il ponte verrà risistemato, a breve riaperto, per una viabilità, quindi una viabilità temporanea, quindi per ridare sin da subito la viabilità. E poi c'è il lavoro più complessivo che deve avere un'accelerata e stiamo lavorando proprio su quello. Ecco Sindaco, queste immagini le avevamo realizzate perché ero andata proprio io sul posto per raccontare ai telespettatori quello che era successo ed era una situazione veramente drammatica. Ricordo, non so se ce l'abbiamo, di una foto con davanti una montagna di tronchi, di rami che poi avevano provocato l'inondazione di tutto il quartiere delle tinte. Una situazione che poi ha bloccato un po' anche la viabilità per ormai due anni perché siamo nel 2024 e quindi piano piano si sperava magari di fare un po' prima però insomma le tempistiche e la burocrazia portano anche ad allungare i tempi e quindi siamo contenti che un primo passo possa essere fatto. Qual è il costo dell'intervento e più o meno quali tempi prevedete? All'intervento adesso, questo primo intervento per riaprire la viabilità è di 40.000 euro, la regione ci ha indicato come soggetto a trattatori e a brevissimo, a questione di giorni, verrà riaperto il ponte dopo questi interventi strutturali ma minimali. Poi in realtà lì ci sarà un senso unico alternato per permettere appunto l'ingresso nel centro storico perché il quartiere delle tinte è il quartiere più colpito dall'alluvione, è il quartiere storico della città ma soprattutto è a ridosso del centro storico e la viabilità in questi due anni ha risentito molto proprio perché è una porta d'ingresso della città. Anche se riguarda un privato le voglio chiedere che cosa poi è successo a quella famiglia la cui casa era stata praticamente parzialmente distrutta dalla piena, che era poco distante da lì, mi ricordo proprio che c'era un'abitazione completamente rovinata, aperta, addirittura sventrata. La situazione è che appunto la casa ancora è in quelle condizioni, vai visto la possibilità di intervento, quale intervento va fatto, chiaramente è una casa molto lesionata, quindi ha bisogno di un'attenzione particolare proprio perché è a ridosso del fiume, quindi la regione sta lavorando proprio perché non succedono più questi tipi di eventi, soprattutto il flusso di acqua sia minore che passa sotto quel ponte all'interno del quartiere, quindi è una questione di sicurezza innanzitutto. Che parte da monte quindi, da un problema di manutenzione, di argini anche dei fiumi stessi. Sì, della portata del fiume per intenderci. Dobbiamo avere anche delle immagini che riguarda la chiesa delle Tinte, perché la diocesi di Fano è stata nominata soggetto a Tattore per il completamento del restauro di questa chiesa. Eccola, vediamo qua, la chiesa di Santa Maria delle Tinte. Un'altra bella notizia. Sì, una bella notizia. Pergola ha tante chiese, la chiesa delle Tinte è una delle più belle. La diocesi è stata nominata soggetto a Tattore, quindi sicuramente avremo un intervento a breve anche sulla chiesa e questo sicuramente è molto molto importante per la nostra città e per tutto il quartiere. Andiamo a leggere qualche messaggio. Come intende risolvere il problema Pini in Viale Martiri della Libertà, mi chiede un cittadino? Il problema Pini sicuramente è un problema che ci portiamo dietro da tanto tempo. Quel viale è un viale bellissimo, alberato, dove ci sono le scuole, dove c'è il campo sportivo, dove ci sono la posta, i maggiori servizi di Pergola. È un viale bellissimo proprio per chi ha alberato. Nel tempo, nell'amministrazione del tempo, era stata fatta una manutenzione totale dei marciapiedi, anzi una riqualificazione di tutti i marciapiedi, ha bisogno sicuramente di manutenzione. Abbiamo già fatto un progetto su quella zona, su quell'area, dove c'è anche Piazza della Repubblica, una piazza importante della città e quindi un progetto che riqualifica totalmente la zona. Chiaramente è un progetto importante, consideriamo che il viale è molto lungo e quindi è un intervento molto dispendioso e quindi ha bisogno di partecipare magari a dei bandi, a dei fondi e riuscire a ottenere dei fondi extracomunali per poter avere una complessiva sistemazione. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione e quindi è importante partecipare ai bandi come abbiamo fatto e cercare di ottimizzare le risorse che il Comune ha partecipando a bandi, quindi ottenendo risorse in più. A proposito di risorse, ha trovato un bilancio in salute? Ho trovato un bilancio, io ero ossessore al bilancio nel secondo mandato quindi conoscevo molto bene il bilancio di Pergola, ho trovato un bilancio dove c'era un importante avanzo di amministrazione che nei cinque anni trascorsi si è accomunato e non è stato utilizzato, noi l'abbiamo destinato a quelli che sono i bandi, bandi appunto come dicevamo per ottenere risultati importanti per la nostra città e fare opere importanti, potevamo fare delle scelte magari di consenso come si dice oggi, cioè fare piccoli interventi a spot e quindi avere il consenso della cittadinanza magari a breve termine, in realtà abbiamo fatto una scelta un po' più lungimirante per la città, investire quelle risorse che aveva a disposizione il Comune per partecipare a bandi e quindi moltiplicare quelle risorse che potrebbero arrivare a Pergola e per fare dei lavori sulla nostra città. Andiamo avanti con i messaggi, a che punto sono i lavori all'ospedale? Ecco questa è una competenza regionale però i vari comuni possono anche monitorare la situazione magari sollecitare la regione stessa per quanto riguarda questi lavori, qual è la situazione? Sono avviati, ci sono stati diversi tipi di lavori, la prima tranche in passato per quanto riguardava la parte esterna, quindi la coibentazione per quanto riguarda un po' l'immobile esternamente adesso stanno lavorando sul lato invece strutturale dell'immobile, sono iniziati e diciamo che stanno proseguendo Termineranno entro il 2026? Mi sembra sì Come da PNR Sì esatto, essendo fondi PNR Come vi muovete con la provincia per la strada disastrata Pergola-Fossombrone detta Barbanti? Allora, la Pergola-Fossombrone, cioè i Barbanti stessi, sono stati oggetto di alcuni interventi È una strada molto importante per Pergola perché collega appunto verso anche la zona mare, oltre ad andare a Fossombrone poi si ricollega alla superstrada che ci porta a Fano, quella che ho fatto io per intenderci in questa serata per venire qui a Fano TV. È una strada molto importante, la provincia sta facendo degli interventi, abbiamo sollecitato gli interventi dove è meglio farli, come farli. Abbiamo chiesto appunto di intervenire soprattutto per quanto riguarda gli asfalti perché troviamo molte, molte buche. In alcune parti sono intervenuti, in alcune parti ci hanno detto che interverranno anche a breve, tempo permettendo. Sicuramente la notizia anche bella e importante è la possibilità, anzi il finanziamento del primo traccio del Intervalliva, che per noi collega Pergola con Fossombrone, non passando più per i bambanti ma con una nuova strada. Questa notizia per noi è molto importante perché crea per Pergola, ma soprattutto per tutto il territorio, per la Valle del Cesano, un nuovo passaggio, una via di sviluppo io dico per tutta la Valle del Cesano. A proposito di asfalti, noi abbiamo parlato appunto adesso delle strade provinciali, per quelle comunali invece? Allora abbiamo deliberato da subito un intervento per quanto riguarda la frazione di Osteria del Piano. Abbiamo trovato una situazione dove dovremmo intervenire in tanti punti, iniziamo da Osteria del Piano, quindi una frazione di Pergola molto popolata, per quanto riguarda la parte di Montagliate, quindi la frazione è divisa in tre parti, la parte centrale e poi le frazioni che salgono in alto, la parte di Montagliate e la parte di Fenigli, dove verranno fatti dei piccoli interventi, Montagliate e un po' più sostanzioso, in tutto un intervento da 140 mila euro finanziato con risorse comunali, quindi un intervento che l'ufficio tecnico sta portando avanti il progetto esecutivo, lo sta terminando e inizierà anche questa breve, poi ci sarà la gara, tutta la procedura, ma è già finanziato nell'ultimo Consiglio Comunale. Bene, ci fermiamo sindaco per qualche istante e poi torniamo in diretta, tra poco. Siamo tornati in diretta con il sindaco di Pergola Diego Sabatucci, sindaco ripartiamo dalle mura storiche perché il vostro comune insieme ad altri due, quello di Sasso Corvaro Auditore e Piano di Mileto, ha ottenuto un finanziamento molto importante da parte della Regione, di quale importo stiamo parlando e di che cosa si tratta? Come dicevamo, l'impegno dell'amministrazione dal primo giorno, da come è stata nominata la Giunta, è stata quella di partecipare ai bandi, abbiamo partecipato a sette bandi fino ad oggi, in quattro mesi, di amministrazione, abbiamo vinto il bando mura storiche, quindi un recupero delle mura storiche della città con un camminamento che parte dal quartiere delle Tinte, di cui parlavamo prima, un quartiere storico della città, costeggia tutte le mura storiche e arriva all'ingresso del centro storico di fianco al teatro comunale. L'importo del progetto è di 500 mila euro, siamo stati finanziati per la parte di 341 mila euro, quindi il cofinanziamento tra comune e regione è un bando molto importante perché guarda sia al recupero delle mura, ma soprattutto guarda anche al turismo della città perché riguarderà l'illuminazione delle nostre mura, quindi anche allo skyline della città da lontano, a un percorso che sarà legato anche all'accessibilità, quindi anche riguarda tutte le possibilità a turista e tutti i tipi di turisti che vengono a Pergola di fare questo percorso, visitare il bellissimo quartiere e poi salire per la città il centro storico. Quindi il progetto parte dalle Tinte? L'idea è il collegamento tra le Tinte e le Conci, i due quartieri storici della nostra città. Oggi la prima parte, il primo straccio si ferma nel centro storico, l'idea poi sarà quella di proseguire fino a collegare i due quartieri che sono il simbolo della nostra città e la storia della nostra città. Lavori di illuminazione pubblica, ultimerete anche i nuovi punti luce già iniziati, le chiedono. Allora il progetto era nato nell'amministrazione che dicevamo, con l'amministrazione di Pergola nel cuore, è stato poi rivisto a mio modo in maniera peggiorativa da parte dell'amministrazione che poi l'ha attuato, ci siamo messi subito al lavoro per riqualificare quella che era l'illuminazione della città. Abbiamo installato dei punti luce in questa fase di prova, proprio per rivedere nel complesso tutta l'illuminazione della città. È stato fatto un buon lavoro, a breve avremo anche lì dei buoni risultati. Sì, quindi amplieremo anche l'illuminazione della città. Quindi è una fase un po' sperimentale per poi renderla definitiva. Sì, perché dobbiamo andare a riadattare un progetto che è stato già iniziato e quindi migliorarlo. Quindi l'obiettivo è quello, sono stati inseriti dei punti luce per migliorare la visibilità, soprattutto nel centro cittadino. Il risultato sembra positivo, stiamo sviluppando il progetto definitivo da completare. Abbiamo parlato prima di bandi e andiamo avanti con questa scena di finanziamenti perché ne avete vinto un altro, che è il bando accoglienza. Sì, un bando che riguarda i grandi eventi, in particolare la Fiera Nazionale del Tartufo che si è appena conclusa ieri a Pergola. Abbiamo vinto la linea del bando accoglienza con una programmazione importante perché è quello su cui crediamo. Lo sviluppo turistico della città ha bisogno di programmazione. La programmazione riguarda sia l'anno 2024 e 2025. Abbiamo vinto il bando sia per il 2024 che per il 2025 per 35.000 euro per la nostra Fiera Nazionale del Tartufo. L'abbiamo già programmato il palinzesto degli eventi anche per il 2025. Fra poco arriverà un altro evento importante per Pergola, un grande evento per Pergola che è la Cioccovisciola di Natale, il 6, 7, 8 dicembre, su cui anche lì abbiamo partecipato ad un altro bando e siamo risultati vincitori anche di quel bando. Ma avete un personale specializzato che insomma segue prettamente i bandi oppure è tutto il personale interno che gestisce? Come dicevamo all'ufficio ha lavorato molto bene ma ci crediamo molto nei bandi proprio perché le risorse a disposizione dei comuni sono limitate. Partecipare ai bandi è importante e permette di creare quello sviluppo sia per le opere strategiche, quindi opere pubbliche, sia per quanto riguarda lo sviluppo turistico di Pergola e della città. Quindi mi diceva della Cioccovisciola. Cioccovisciola, 6, 7, 8 dicembre, questo incontro importante, appena terminata la Fiera Nazionale del Tartufo che è andata benissimo. Ci troviamo davanti alla Cioccovisciola fra poco più di un mese che guarda il binomio fra cioccolato e visciolato che è un prodotto tipico di Pergola. E poi la rievocazione storica? Poi abbiamo già programmato il 2025 con una serie di eventi già pensati da amministrazioni comunali, fra tutti la rievocazione storica, quindi il ritorno della rievocazione storica ad agosto, ad agosto 2025. Stiamo lavorando proprio su quello e stiamo lavorando su grandi eventi distribuiti nell'anno per la città che valorizzano e creano economia per la città. E questo è un principio importante su cui crediamo perché, come abbiamo visto in queste tre giornate con la Fiera del Tartufo, i grandi eventi sono importanti e creano sviluppo economico per la città. Ha chiamato un telespettatore dalla regia e mi dicono che le fanno i complimenti per il Blooming Festival, che è stato molto suggestivo. Sì, grazie perché è un evento importante che si tiene a settembre con un'associazione di Pergola, arti numeriche, quindi un tipo di arti anche difficile da trovare nelle nostre realtà, soprattutto nell'entroterra, ma in generale anche nelle marche. L'associazione che lo organizza Pergola con il contributo dell'amministrazione comunale e del Comune di Pergola, con il patrocinio, ha realizzato veramente un evento importante per Pergola, ma non solo, è un evento a livello anche lì nazionale, magari di nicchia legato a un tipo di arti, ma molto molto seguito. Ecco, quando si partecipa a tutti questi eventi, una tappa è d'obbligo anche al Museo dei Bronzi Dorati, che è la chicca di Pergola. Dovremo avere anche qua delle immagini. Ecco, per questo museo ci sono dei progetti, Sindaco? Sì, crediamo molto. I bronzi dorati sono molto importanti per Pergola e per la sua economia. Abbiamo anche lì già fatto un progetto legato al Museo dei Bronzi Dorati di riqualificazione complessiva del museo, ma soprattutto abbiamo creato, ad esempio all'interno della Fiera del Tartufo, dei pacchetti per far conoscere gli oli di Pergola, se li abbiamo definiti. Quindi il tartufo bianco pregiato e i bronzi dorati. Ad esempio all'interno della Fiera del Tartufo abbiamo creato un pacchetto cultura e cucina, proprio dove chi veniva a Pergola poteva conoscere l'oro da degustare, quindi il tartufo bianco pregiato e l'oro da vedere, i nostri bronzi dorati. Fantastico. Le chiedono, è possibile cambiare il programma del semaforo, far passare solo pedoni e solo macchine? Adesso perché sono alternati, è una cosa che valuteremo. Valuteremo anche come è possibile gestire il semaforo. Abbiamo un semaforo centrale a cinque vie, quindi diciamo alternato in quel senso, perché sono cinque le vie. Valuteremo come è possibile, se è possibile migliorarlo. Diamo uno sguardo anche al futuro, quindi i progetti a lungo termine. Come vorrebbe cambiare la città di Pergola? Sicuramente quello che è stato il tema un po' della campagna elettorale e del programma elettorale che abbiamo sviluppato. tre temi fondamentali, l'attenzione al cittadino, il decoro urbano della città, lo sviluppo turistico della città e infine le opere, tutte e tre interconnessi come temi. Perché? Perché il decoro urbano va dietro lo sviluppo turistico e le opere pubbliche vanno anche esse dietro allo sviluppo turistico. Quindi tre filoni importanti del programma elettorale che si riconducono uno con l'altro. E' per questo che abbiamo fatto questa scelta, la scelta di investire sullo sviluppo turistico, come vedevamo, grandi eventi che sono quelli che portano economia alla città e opere importanti legate sia al cittadino ma legate anche allo sviluppo turistico, come dicevamo. E per fare questo serve una grande squadra? Ce li vuole presentare? Serve una grande squadra, una squadra, come dicevamo all'inizio, una squadra dove ognuno ha una sua competenza. Ho avuto la fortuna di avere una squadra vicino dove ognuno aveva un ruolo importante e ho nominato la giunta in due giorni. Quindi credo che è uno dei record. Aveva già le idee chiare. Le idee erano molto chiare per la nostra squadra. Il vice sindaco è l'onorevole Antonio Baldelli, che si occupa di grandi eventi appunto, si occupa di relazioni istituzionali e opere strategiche, oltre che di turismo. Poi abbiamo l'assessore Luca Castratori, che si occupa di lavori pubblici, protezione civile e decoro urbano, un altro punto su cui crediamo molto come programma elettorale. Daniela Formica, che si occupa di menza scolastica, servizi sociali e scuole. Ed infine Simonetta Principi, che si occupa di polizia municipale, centro Margherita. Diciamo che questa è la squadra. Poi abbiamo i consiglieri, con Andrea Paschi, Capogruppo e tutti gli altri consiglieri, ma anche chi non è entrato nella squadra, nel Consiglio Comunale, ha un ruolo ben specifico. Quindi anche chi non è entrato direttamente in Consiglio Comunale, mi aiuta nel seguire determinati compiti, dallo sport allo sviluppo economico, avendo anche un imprenditore all'interno della lista. Quindi ognuno ha un compito preciso. E questa è la forza di Pergola nel cuore. e con questo vogliamo far crescere Pergola e portare dei grandi risultati per Pergola. Come in tutte le aziende, i comuni, i enti che siano, insomma la squadra fa la differenza. Esatto. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Ci rivediamo sempre in questa stagione, nell'arco però del 2025. Benissimo. Grazie ancora. Grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito. Ci rivediamo alle 20.30 per il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie a tutti.